La zona anteriore, centrale e posta lì, vi invitiamo a localizzare quelle più decine in caso di evacuazione di emergenza, un sentiero lungoso faciliterà il raggiungimento dei due lago ghiacciato Ragazzi, ci siamo, finalmente siamo atterrati in Norvegia, non vi dico niente, non vi voglio neanche spoilerare che cosa siamo venuti a fare God of War Vabbè ragazzi Potevamo? Potevamo Vabbè ragazzi, vi hanno spoilerato, siamo qui per provare God of War, domani faremo delle attività fighissime, quindi seguitemi qui sulle Instagram Stories, poi sicuramente ci farò dei video, poi vi parlerò del gioco, un sacco di cose e ricordatevi che domani esce anche il video della settimana Appena arrivati ragazzi, questo è il nostro hotel, stiamo praticamente in mezzo al nulla Non so se si vede, lì c'è la montagna, è pieno di neve, fa freddo, però domani si va all'avventura Buongiorno ragazzi, questa è la situazione, sta nevicando, non so se si vede perché mi sta venita tutta neve addosso, stiamo per andare in un villaggio vikingo, comunque in un villaggio che ricrea tutte le ambientazioni di God of War, siamo pronti a provare il gioco ragazzi Ragazzi siamo qui sulla nave, siamo partiti, non si vede niente, nevica tantissimo, ahia, nell'occhio, comunque è una figata assurda, è una figata veramente incredibile, però voi non vedrete niente perché si Buongiorno, sono le sei e mezza del mattino e questo è quello che ho fuori dalla mia stanza Ma che siete matti, io devo uscire fra poco Ragazzi nevica tantissimo, nevica proprio troppo, 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 che spettacolo, guarda i capelli, ragazzi sto sulla nave, guarda un po', è gigante questa barca nave quello che si chiama perché è bellissima, oddio, oddio, guarda quanta neve, raga, dietro non si vede nulla, nulla, qua si vede già meglio, madonna, raga, guarda che raga Da bravi barboni ragazzi abbiamo individuato un falò, welcome back, ci stiamo riposando, ci stiamo riposando, ci stiamo scaltando in attesa di provare il gioco lì dentro, dai ragazzi dai, però alle 14 video della settimana illuminata, eh? Ragazzi siamo a pranzo e in un luogo un po' così, non posso dire niente purtroppo non posso neanche dire, quindi guardate semplicemente la faccia Sì, noi intanto siamo qui in mezzo alla neve, ma stiamo facendo tiro con l'arco, quegli animali finti ovviamente, stanno per essere infilzati dalle nostre frecce, poi giù c'è il lancio con l'ascia, axe throwing, e vabbè niente, fa freddo Ragazzi non mi sono sfregiato, sono solamente il vostro nuovo God of War, comunque tutto questo per dirvi che questa sera alle 8 mi sembra, uscirà il video di stormi della settimana illuminata, quindi quello di mio cugino, c'ho il naso anche rosso, sembra un'arena Ragazzi guardate che posti meravigliosi, ve lo faccio vedere, siamo proprio ai piedi del fiordo e adesso prendiamo quella navetta e ci andiamo a fare un giretto, che spettacolo Ragazzi qui procede bene, siamo in crociera, siamo su una nave vichinga come potete vedere c'è un vichingo che non fa niente perché vedete la voglia di lavorare vichinga famosa in tutto il mondo, e niente, vi ho fatto vedere dove siamo, aspettate Ragazzi è addirittura uscito il sole, incredibile, e si sta veramente benissimo adesso, vi voglio solamente ringraziare per il video della settimana illuminata che è già in tendenza, dico, così due ore già in tendenza, veramente grazie a tutti, continuate a guardarlo e stormi alle 20. Ragazzi voi non vedete nulla ma siamo dentro una caverna e probabilmente lo vedrete quando saremo già usciti, fa freddissimo e stiamo seguendo questa via fatta di luci, oh mio dio, non sappiamo, in realtà sì, sappiamo cosa succederà. Ragazzi siamo arrivati al villaggio vichingo. Fa strano vedere questo fuoco qua a mezzo? Guarda in montagna ragazzi, intanto nevica, non smette mai di nevicare ovviamente. questa roba satanica. Siamo arrivati ragazzi dentro il villaggio vichingo. ragazzi guarda dove sto andando, sto andando qua sopra, che bello regà, troppo bello, guarda che spettacolo. Ragazzi siamo al lago di Trevignano, a Bracciano. non mi dico che ti sposi al lago di Bracciano, a Castello. Dentro una montagna troppo figo, troppo figo. Dobbiamo seguire questo percorso e vediamo dove ci porta. All'inverno! All'inverno! vabbè, vabbè, vabbè. Ragazzi siamo sotto una montagna enorme, voi vedrete nel vlog. Ciao!